Tutto pronto nei cimiteri padovani per accogliere i cittadini che vorranno portare un fiore ai cari defunti. Il Comune di Padova ha voluto offrire anche servizi aggiuntivi per questo lungo fine settimana. Il Comune di Padova si è già preparato perché come si può vedere nei nostri cimiteri già in questi giorni e già da una settimana diciamo l'afflusso delle persone è particolarmente consistente e in questa occasione in particolare si è tenuto alla cura dei cimiteri in modo più particolare quindi i fiori nelle ciotole e ovviamente gli sfalci e il decoro dei cimiteri ma anche alcuni servizi particolari come per esempio quello al cimitero maggiore dell'accompagnamento delle persone per evitare che ci sia l'andarivieni delle vetture private c'è un servizio nei prossimi giorni anche sostenuto dal supporto della Croce Rossa che permette a chi ha problemi di deambulazione di accedere alle tombe dei propri cari attraverso un supporto, attraverso delle macchine e un accompagnamento dedicato. Gli orari restano invariati nei primi giorni di novembre nonostante il cambio dell'ora per permettere l'accesso fino alle 16.30. Tutte le informazioni sono su PadovaNet, c'è un numero di telefono dedicato però arrivando al cimitero maggiore si trovano delle sedie su cui ci si può accomodare in attesa che le macchine che vanno e vengono del Comune e della Croce Rossa possano prendere le persone e portarle dove desiderano. Il Comune ha scelto di stipulare un patto con i cittadini per offrire una manutenzione aggiuntiva. Ci sono i cittadini che in nome dell'amministrazione condivisa supportano il lavoro che il Comune fa regolarmente ogni mese di sfalcio e di cura dei cimiteri con una loro aggiuntiva collaborazione come è il caso del cimitero delle Granze.